Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio della nostra vanilla Ricominciamo dal nostro magazzino dopo lo scorso episodio che ci ha visto completare il mercato verticale In questo invece ragazzi voglio farmare tantissime carote e tantissime patate per prendere gli ultimi blocchi di smeraldo Anche perché non ce ne mancano tantissimi, ora vi voglio far vedere che ho farmato un bel po' E siamo a quota 56 blocchi, quindi dovrebbero mancarne circa 34, quindi in realtà siamo messi bene Ma per farmare gli ultimi blocchi restanti voglio appunto fare una piccola farm che farma in continuazione patate e carote appunto E per farla ci servono i materiali, quindi per prima cosa ci serviranno ben 3 dispenser che voglio fare Quindi mi prendo un po' di cobblestone e li facciamo subito, quindi facciamo ben 3 dispenser in questo modo Togliamo questi due che non ci servono e mettiamo se non ricordo male qua la redstone Anzi no in realtà è qua su e qua sotto l'arco era il contrario E infatti è così, quindi facciamo il primo, facciamo il secondo e facciamo anche il terzo Come vedete ho anche un arco in più e qua manca della cobblestone, quindi lo facciamo e siamo a posto Rimetto un attimo via le cose in eccesso che non ci serviranno, ci servirà anche un comparatore Quindi lo facciamo, 3 torcette di redstone in questo modo, 3 pietre e l'abbiamo Altra cosa, la redstone torch non ci dovrebbe più servire, abbiamo un bel po' di bomb meal perché il carburante della farm è appunto il bomb meal E finalmente lo abbiamo grazie al grinder, quindi lo possiamo fare, la zappa l'abbiamo, gli slab li abbiamo, i blocchi da costruzione va bene Devo prendere dell'acqua, la carota l'abbiamo, direi che siamo messi bene Quindi per prima cosa io vorrei andare a prendere una patata, dovrei averne infatti di patate perché è da un po' che non ne farmo ragazzi Da quando ho fatto la farm di pesca in pratica sto andando avanti con i pesci, ho tantissimi stack ancora Quindi per un bel po' probabilmente mangeremo solo di quelli Ma infatti come ricordavo la farm era attiva, ripianto una patata e io non me la tengo perché è essenziale Ora non ci resta che decidere dove fare questa minuscola farm, davvero ragazzi minuscola Intanto mi prendo l'arco perché non ho dormito in realtà per tutta la notte quindi probabilmente qualcuno è sponato Pare di no per fortuna e devo decidere un po' dove fare questa farm Intanto vi voglio far vedere che la farm di villager è praticamente vuota come vi dicevo Ho anche cominciato a fare la nuova farm che probabilmente vedremo nei prossimi episodi E altra cosa ragazzi che a scassa il mondo il prossimo episodio sarà dedicato a fare il plan bob di sims 4 E poi voglio fare un altro progetto o meglio è un episodio sciallissimo Che però credo risulterà uno di quelli più importanti di tutta la serie Perché voglio insieme a voi prendere tanti bum meal, tanti alberi e fare tutte le strade Quindi prenderemo un episodio di pausa diciamo dalla serie e dalle costruzioni importanti Proprio per rendere più bello questo mondo Vedo già delle scalinate, vedo qua la terra che ricopre tutti i buchi, quella a masso di cobblestone che va via Insomma un episodio dedicato direttamente alla decorazione senza costruire altro E poi pian piano costruiremo anche il resto Ora però come vi dicevo devo cercare un punto dove farmare le patate e le carote E sapete cosa? Io probabilmente lo farei anche da queste parti Ora ho la pala, sì E allora sapete cosa? Io comincio a togliere un po' di terra Perché tanto qua va terraformato tutto Visto che dobbiamo ancora fare una piccola casetta per la farm di concreto Quindi tanto questa terra prima o poi l'avremo tolta Me ne approfitto e comincio a pulire Quindi partendo dal presupposto che abbiamo questo spazio Che in realtà è perfetto Intanto sto notando che lassù c'è un buco un po' strano ma chi se ne importa Direi che ci siamo Abbiamo ben 1, 2, 3, 4, 5 blocchi Direi che è perfetto Quindi ci prendiamo il blocco centrale E ci piazziamo una slab ragazzi È davvero semplicissima questa farm Mettiamo una slab Mettiamo un blocco solido Ho deciso di utilizzare gli stone bricks per costruire Quindi mettiamo un blocco di terra Molto semplice Facciamo due pillar ai lati Ora voglio vedere un po' come siamo messi Qua in realtà dovremmo fare qualcosa del genere Per racchiudere l'acqua Quindi l'altro blocco lo togliamo E direi che forse ci siamo Probabilmente però devo andare un pochino più indietro Sapete? Sì credo di aver bisogno di un pochino più di spazio Quindi io mi faccio un po' di spazio È un po' come la farm di concrete Anche qua voglio fare una piccola casetta Quindi anche quello rientrerà nell'episodio di decorazione del mondo Ora però qua ragazzi mi serve un pezzo di cobblestone Quindi per forza di cosa ho dovuto fare così Butto questi maledettissimi fiori Perché mi serve una leva Quindi devo fare così Devo fare così Prendere la leva e buttare nuovamente il fiore Che bello Quindi a questo punto mettiamo la leva proprio qua di fianco Questo lo buttiamo anche lontano E cominciamo a lavorare con la redstone Quindi prendiamo un po' di redstone E mettiamo due pezzettini qua E da questa parte mettiamo il comparatore E ora sto notando anche che mi servirà un altro blocco di distanza Quindi devo spaccare anche questi Quindi spacco questi in questo modo Molto bene Poi ripariamo il tutto Metto un blocco solido Che però sarà di stone bricks Così almeno continuiamo con lo stesso pattern E qua ragazzi ci mettiamo sempre la redstone Quindi qua mettiamo qualcosa del genere E qua di fianco invece ragazzi Facciamo qualcosa di questo tipo Ora poi da quassù possiamo mettere un blocco in questo modo E soprattutto mettiamo un blocco random Che poi togliamo E cominciamo a mettere anche i dispenser In realtà però prima vorrei mettere l'acqua Che mi sono anche dimenticato di andare a prendere Quindi quella lì non è una fonte d'acqua infinita Ma dovrebbero esserci qua dei laghetti Prendiamo l'acqua E in realtà abbiamo quasi finito Come vi ho detto è molto molto semplice Ci vorrà davvero poco L'unica cosa è che sarà un bel dispendio di bomb meal Ma come vi ho detto non è più un problema Dal momento che abbiamo il grinder Abbiamo tanto di quel bomb meal Che non mi preoccupa affatto Quindi prendiamo un po' d'acqua dalla fontanella Che abbiamo qua Come vedete il farmer l'ho isolato dentro il cart Che guarda le porte in pratica E' anche depresso il nostro villager Ma chi se ne importa ben presto avrà una nuova casa Quindi ben presto ve la farò vedere Ma noi intanto continuiamo con la nostra farm Quindi qua mettiamo l'acqua in questo modo Mentre qua mettiamo il primo dei dispenser Così e ne mettiamo altri due ai lati in questo modo E direi che ci siamo Ora qua possiamo anche coprirli con delle slab Quindi mettiamo le slab in questo modo Mentre qua sotto ne metto una un pochino più in basso E questa me la riprendo Anche perché è abbastanza bruttino il design ragazzi Ma come vi ho detto Pian piano lo miglioreremo Qua dietro infine ragazzi Possiamo fare qualcosa di questo genere Quindi facciamo anche così E mettiamo la redstone proprio qua sopra Intanto credo si stia di nuovo facendo notte E' assurdo Ecco mettiamo tre pezzi di redstone Che colleghiamo anche qui E direi che ci siamo Ora facciamo la prova del nove Intanto vi ricordo che questo però va settato E qui in realtà lo dobbiamo accendere E ora se spingiamo la leva Non succede nulla Che bello Questo perché ragazzi Ho messo un pezzo di redstone Un pezzo più indietro Un blocco più indietro Invece deve fare così Questo è il loop appunto Che ci permette di farmare tante belle robe Ora però direi che possiamo andare a dormire Così almeno prendo tutto il boom meal O meglio trasformo tutte le ossa Che ho già nell'inventario in boom meal Carichiamo la nostra macchinetta di farming E poi la proviamo Ed è sempre bello Avere però della compagnia la notte Ragazzi Uh Creeper inception In pratica era nascosto dietro l'altro creeper Lui non m'ha visto Perché è molto furbo E se si muove però non lo colpisco Molto bene l'ho colpito Sì E non è neanche morto Che bello Ecco muori grazie Andiamo a dormire Quindi ragazzi Cominciamo a mettere tutto il boom meal Ora c'è da dire che vorrei anche riparare Direttamente la macchina Perché non vorrei che esplodesse qualche creeper qua vicino Quindi dobbiamo stare attenti Ecco l'ultimo stack Trasformo questi ultimi In boom meal E carichiamo anche l'ultimo dropper O scusatemi in realtà dispenser Ecco questo è carico Quindi credo di essere giusto con il boom meal Esatto Siamo a posto Ora dobbiamo solo zappare il pezzo di terra Quindi con la nostra O lo zappiamo E questo si idraterà direttamente E ora accendiamo questo Prendiamo una carota E cominciamo a farmare Dobbiamo semplicemente tenere premuto il nostro tasto del mouse E come vedete Farmiamo tantissime carote in pochi secondi Tanto che vorrei farmare almeno un inventario di carote E uno di patate E cominciare a scambiarle In realtà ragazzi Poi è velocissima come farm Come vedete In realtà sono passati pochi secondi Se anche c'è stato il taglio Ma in pochi secondi Ho fatto tantissimi stack di carote Ora sto riempiendo gli ultimi posti Slot liberi dell'inventario con le patate Così almeno abbiamo anche due fonti di scambio Però è davvero molto molto semplice E veloce farmare il tutto Davvero ragazzi Questa farm era essenziale E me l'avevate anche suggerito Nei commenti ragazzi Perché come sapete Vi leggo sempre Ma finché non avevamo il buon meal Era infattibile come cosa Quindi ho voluto aspettare E comunque è sempre una fonte di cibo infinito Che male non fa Quindi ragazzi Pochi secondi dopo La situazione è questa Ora andiamo a farmare insieme Un po' di roba Così almeno vi faccio vedere Mentre farmo di smeraldi Anche perché non ve lo faccio vedere spesso Quindi preferisco farlo E intanto cominciamo dalle carote Ora non ricordo neanche Se avevo sbloccato i trade Probabilmente no Vediamo un attimo Le carote sono finite Va bene Aspettiamo per vedere Se si è sbloccato tutto No Ha bisogno di patate E allora lo facciamo E in teoria così dovremmo sbloccare di nuovo Tutti i trade Infatti è così Quindi facciamo carote Partate eccetera E come vedete In pochi secondi Abbiamo già 19 smeraldi 20 smeraldi eccetera eccetera Abbiamo di nuovo bloccato le carote Va bene Aspettiamo un attimo Magari riusciamo a fare tutto No Sì in realtà sì Perfetto Si è sbloccato da solo Quindi Continuiamo a farmare Per il momento le carote E come vedete Abbiamo fatto praticamente Mezzo stack di smeraldo In due secondi Turno delle patate Le patate in realtà sono poche Perché ne ho farmato davvero poche E sei di nuovo bloccato Ok Dobbiamo aspettare un attimo Oh Perfetto Come vedete È molto molto facile Continuiamo con le carote Ora qua Si sono bloccate di nuovo Quindi Prendiamo le patate Eccetera eccetera Questo doppio scambio Ci dà la possibilità appunto Di farmare smeraldi Molto molto velocemente Tanto che come vedete In davvero Pochissimi secondi Abbiamo 44 smeraldi Il che è perfetto Spero sia sbloccato Anche quello delle carote No Questo è un bel problema E in realtà no Ecco si è appena sbloccato Quindi continuiamo a farmare Mettiamo questi E abbiamo 52 smeraldi E per fortuna Non si è bloccato Ecco L'ho appena detto Ma in realtà È molto facile Molto facile Ora vediamo un po' Se si sblocca Sì per fortuna Ultimi due stack Diciamo Di carote E abbiamo ragazzi Uno stack di smeraldo Easy Velocissimo In pochi secondi Possiamo davvero farmare Tutti i blocchi Che ci mancano Che come vi ho detto Dovrebbero essere 34 Quindi siamo messi bene E ragazzi Alla fine ho deciso Di venire a fare scorta Di ossa Visto che qua Ne ho lasciato davvero Tanti stack Così almeno mi porto A portata di mano Scusate gioco di parole Ma almeno Ci danno la possibilità Di farmare Molto molto velocemente Infatti come vedete Le ossa sono Insieme alle frecce Le cose che non ho poi Portato nel magazzino Anzi Vi dico già Che il magazzino Lo modificheremo Con una stanza Proprio per questi drop Così almeno Li abbiamo vicini a casa Eccetera eccetera Intanto io mi riempio La mia shulker box Con tutte le ossa Del caso E come vedete Gli stack non mancano E poi torniamo a farmare Così vi voglio far vedere Con un bel inventario pieno Quanto farmiamo E potete notare Quante ossa abbiamo E torniamo qua E ora sarà un bel guaglio Per trasformare Tutto in bomb meal Senza Ecco ad esempio Questo Lo possiamo anche buttare In realtà Lascio qua anche il secchio Perché altrimenti Non ho più spazio Nell'inventario Quindi pian piano Riempio di nuovo tutto Come vedete Ho finito tutto il bomb meal Così almeno Possiamo farmare ancora Un po' di patate e carote Quindi ragazzi Scambio gli ultimi stack Di patate e carote Vediamo un po' A quanti smeraldi Arriviamo Anche perché Con le carote Direi che ci siamo Posso fare un altro Smeraldo Bene bene E soprattutto Sto anche notando Che è un metodo Molto molto veloce Per farmare esperienza Come vedete Sto farmando Tantissima esperienza E anzi Vi approfitto Per prendere Tutte queste carote Che tanto Non ci servono più E scambiare anche questo In pochi minuti Di gameplay Siamo arrivati A due stack Di smeraldi Significa avere 14 blocchi Pensate un po' Che ora In pochi minuti Probabilmente Completterò La mia challenge Degli 89 blocchi Di smeraldo Quindi nel prossimo episodio Non ci resta altro Se non fare appunto Il plan bob Di The Sims 4 Quindi Ci prendiamo I nostri Quattro smeraldi D'avanzo E siamo arrivati A due stack giusti Perché avevamo 60 smeraldi Pensate un po' E quindi Ora li trasformiamo Quindi come dicevamo Dovremmo avere Ben 14 blocchi Di smeraldo In realtà Con due smeraldi D'avanzo E siamo ragazzi A 64 E 6 Siamo a 70 blocchi Significa che ne mancano 19 E in realtà Fare 19 blocchi Come vedete È molto semplice Ne abbiamo fatto 14 insieme In pochi minuti Quindi Basteranno Credo Altri 10 minuti Di farming E ci siamo Quindi ragazzi Direi che siamo davvero ricchi E direi anche Che per questo episodio Ci possiamo fermare qui Anche perché Devo solo farmare Lo farò off camera Come vi ho detto Nel prossimo episodio Però andiamo a fare Il plan Bob Di The Sims 4 Che ha voluto Tantissimo tempo Per la sua realizzazione Anche perché vedrete Sarà bello bello grande Ma non vi spoilerò nulla Per questo è tutto Io spero che vi sia piaciuto E se condividete Mettere un mi piace Iscrivetevi al canale E fammi sapere Sotto i commenti Che ne pensate Sotto di me E trovate il pulsante Per iscrivervi A altri due video Io come sempre Vi do un appuntamento Alla prossima Vi dico Ciao a tutti